Un saluto a tutte le donne presenti! Spendete qualsiasi cosa stiate fumando! Da parte di tutta la direzione, buon viaggio ragazzi! A prenderti per mano ci pensa a lui! L'ultimo diamante DJ! La voce sarà mia, Fabio Lino Sakurai! Buon viaggio ragazzi, buon viaggio! Se ti senti un numero uno, alza le tue mani in aria! E si sale sempre di più! Se prendi voi c'è qualcuno che lunedì con la voglia di fare il schiazzo, A mio tempo non dare! Uno, due, tre! Un saluto a tutti! Un saluto! Minnie! Mi hanno detto che mercoledì il maestro quella musica ha spacciato tutto! Torino a chi si da posti